Io sono andato qui, dove i palazzi non è facile, sul mare, dove è più facile star sì, che parlare. Napoli, nel bene e nel male, è qualcosa che ti marchia, non riesci a levarti addosso questa pesantezza o questa leggerezza, perché in Napoli è sempre una contraddizione continua. Io vengo da Napoli, ma vengo da un quartiere particolare, che è Scampina. La musica ha cambiato, quando mia mamma a 9 anni ha introdotto in casa mia un pianoforte, da lì ho scoperto un mondo diverso, un mondo nuovo e da lì ho cominciato a viaggiare, ad andare oltre con la fantasia, ad uscire da quelle mura per cercare di esplorare nuove realtà. La musica mi ha preso proprio per i capelli e mi ha fatto, un po' fisicamente, mi ha alzato. Io ho il tour che si sta quasi concludendo, ho un concerto a Napoli il 9 marzo, vi farò, porto il mio spettacolo di canzoni e monologhi, poi mi fermerò e comincerò a lavorare al nuovo disco. Mi guardate su Issa. Mi guardate su Issa. Mi guardate su Issa. Mi guardate su Issa ha cambiato. Mi guardate su Issa. Mi pare